Ciao, benvenuta nel progetto Arena's My My Best. Ciao, ciao. Io sono Robietta Riccardi e ho fatto i 200 misti per la categoria cadetti e sono arrivata a seconda. Ciao, io sono Letizia Paniscio, ho fatto i 200 misti per la categoria cadetti e sono arrivata a seconda. Bene, diteci qualche emozione prima della gara o anche dopo. Allora, è sempre un'emozione fortissima per le gare qui, anche se non è la prima volta. Sei contento del risultato? Del tempo c'è del risultato cronometrico o della posizione? Io sono abbastanza contenta sia del tempo che del risultato cronometrico e avevo un po' paura prima della gara, davvero contento. Anche io sono abbastanza contenta sia del risultato che della posizione. Prima della gara c'era comunque sempre un po' di tensione, però dopo ero molto contento. Avete anche qualche rituale specifico che fate sempre prima delle gare? E' questo. E' un gesto che mi rilassa e mi dà la concentrazione. No, io niente in particolare, neanche io. E a chi dedicati questa vittoria? Io ai miei allenatori e a tutti i miei amici che mi sostengono sempre. Io a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi anni. Io al mio allenatore, Vince, e a mia amica, Iris. Grazie per essere state qua. Ciao. Ciao. Grazie.